Il metodo cilento è il metodo con cui le popolazioni del sud, soprattutto quello dell'Apenino Meridionale, centro meridionale, hanno vissuto per secoli, ossia una vita all'insegna dell'equilibrio e del giusto rapporto con il tempo, con il volgere delle stagioni e sono temi che potrebbero sembrare passatisti, ma passatisti non sono, perché in questo correre continuo, in questo accelerare, in questa esagerata adorazione per la velocità noi vediamo che molte cose non vanno bene e forse proprio il Covid ci ha reso partecipe di questa riflessione quando ci siamo trovati intere giornate senza riuscire a coprire il tempo e evidentemente era un tempo che noi non utilizzavamo bene quindi il metodo cilento significa mangiare bene, fare la spesa ogni giorno, fare una vita di comunità curare la spiritualità anche e fare il giusto movimento cioè fare una vita, come dire, equilibrata come proprio dice la parola greca dieta, insomma la dieta così come la vedeva Ippocrate che è equilibrio fra tutte le componenti grazie a tutti grazie a tutti